La speranza di un mondo libero dalle armi nucleari contro ogni fosco pessimismo, l'impegno di governi e istituzioni per fermare la corsa agli armamenti, così da mettere in primo piano le priorità reali dell'umanità, come la lotta alla povertà e la promozione della pace, è stato il centro del forte discorso che Papa Francesco ha pronunciato in Sala Clementina incontrando i partecipanti al Simposio Internazionale sul Disarmo, al via oggi nell'Aula del Sinodo. Bergoglio menzionando i progressi in ambito legislativo e invocando come monito per le nuove generazioni la testimonianza delle vittime di Hiroshima e Nagasaki, ha denunciato ancora una volta l'uso immorale delle armi nucleari, definite micidiali strumenti di offesa. È da condannare con fermezza la minaccia del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma l'intero genere umano. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall'ostentazione delle arsenali bellici. Le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana. A 50 anni dalla Populorum Progressio, il Papa ha ribadito l'impegno della Chiesa nel rigettare la cultura dello scarto e promuovere piuttosto lo sviluppo umano integrale attraverso logiche solidali e un progresso inclusivo ed effettivo. Infine il richiamo a tutti i governi perché senza le armi e supportati dalla vera scienza agiscano sempre per il bene dell'uomo. Grazie a tutti.